Un grande risultato per il Circolo Velle Vernazzolesi, un titolo italiano nella classe 420 ottenuta a Sanremo. Filippo, partirei proprio dal racconto di questa avventura. Come sono state le giornate di gara? Come vi siete preparati? È stata una regata non molto fortunata per le condizioni perché abbiamo beccato un solo giorno di condizioni belle con vento da levante e gli altri giorni siamo stati sfortunati con vento sempre molto leggero fino all'ultimo giorno in cui non siamo riusciti a fare prove. La preparazione per questo campionato è stata molto complessa anche dovuta allo stop Covid ma soprattutto bisogna ringraziare chi ci ha dato una mano a prepararci, al nostro allenatore e anche ai ragazzi che si sono allenati con noi e anche ai vari allenamenti fuori Genova che ci hanno permesso di crescere. Un risultato che vi spalanca le porte per il mondiale? Ci sarà il mondiale, sempre la Marina degli Aregai a Sanremo e il quale sarà un'ottima occasione per confrontarsi con gli equipaggi più forti al mondo. Una stazione che era iniziata nel migliore dei modi con l'International Genova Winter Contest che vi aveva visto subito protagonisti. Grazie alle videoconferenze fatte durante il periodo Covid si è riusciti a perdere meno strada possibile in questo difficoltà. Questo equipaggio nasce all'incirca alla fine del 2018 quando io e Filippo abbiamo smesso di andare in Optimist perché giustamente eravamo troppo alti, troppo pesanti e subito dall'inizio ci siamo trovati bene. Infatti da quel momento lì non abbiamo mai cambiato. Per la settimana diciamo che variamo da settimana a settimana all'incirca dai 2-4 allenamenti quando si riesce, quando riusciamo a metterci d'accordo con la scuola e i compiti. Allora per noi è un motivo d'orgoglio rappresentare questo circolo in giro per l'Italia e quando abbiamo vinto il campionato nazionale questa domenica subito abbiamo fatto festa proprio per ringraziare il nostro circolo che ci ha dato una mano in questi due anni.